L'idea in verticale di Griezmann, occasione d'oro! Ecco Pogba, Lemar, trova la botta! Grazie a tutti! Occhio al tiro! E Wayne, occhio al tiro! E c'è la parata sul rigore di Messi! Occhio al tiro della bandierina! Higuaín! Higuaín! Punta l'area! Eriksen! Delany! Palla che finisce sul palo! Farfanna! Palla interessante dello spazio! Può far male da lì! Palla che finisce dentro dopo aver baciato la traversa! Cerca il secondo palo! La deviazione sul palo! Calcio a ragolo battuto! Tappia! Palla! Palla! solo! Palla! 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 Grazie a tutti.